Allora io sono la guida dell'oratorio di Gambara, significa che ho ricevuto un mandato dal vescovo per essere il responsabile di tutta la struttura e di tutte le attività. Abito qui in oratorio con la mia famiglia, con mia moglie Elena, i miei figli Jacopo e Giosuè e mi occupo, ripeto, di tutta l'organizzazione sia quella strutturale e pratica, sia il catechismo, sia tutte le attività ludiche e sportive, naturalmente con l'aiuto di decine e decine di animatori. Quindi sono anche il responsabile del centro estivo di quest'anno che è stato fatto grazie anche alla collaborazione del Comune e di tante altre associazioni gambaresi. Allora abbiamo 140 bambini iscritti, circa 45 animatori e poi 20 invece adulti che ci danno una mano a coordinare il lavoro dei piccoli gruppi, sono suddivisi per età, quindi siamo stati facilitati anche nel fatto che i bambini sono già amici, si sono frequentati a scuola e quest'anno direi che questa formula è veramente vincente. Avrà bisogno ancora magari di qualche cambiamento ma siamo convinti che stiamo facendo un buon lavoro, insieme anche ad altri oratori, perché la formula, ripeto, di quest'anno è un qualcosa di nuovo ma di veramente bello. Ci tengo a sottolineare che il coordinatore del Grest è un ragazzo di 18 anni, Daniele, perché noi abbiamo fatto questa scelta, l'abbiamo fatta da diversi anni, cioè dare proprio ai giovani alcune responsabilità. Lo facciamo perché nel Vangelo Gesù ha fatto così, dando fiducia a ragazzi giovani, nella Bibbia anche, e ci ispiriamo a una frase di San Benedetto che diceva ai suoi monaci, quando avete qualche dubbio, dovete risolvere qualche problema, rivolgetevi le persone che fierile più giovani, perché il Signore parla attraverso di Lui 3, o, eeeh! 3, o, ehh! 3, o, ehh! La passata, passata, passata! rispetto agli altri anni sono cambiate le regole che dovevamo far rispettare infatti per realizzare questo grest è stata abbastanza un'impresa perché ogni giorno c'era una novità di solito facevamo 8 squadre, 4 per i ragazzi grandi e 4 per i bambini più piccoli invece quest'anno abbiamo dovuto fare 10 perché dovevamo seguire il protocollo che diceva che il rapporto numerico tra maggiorenne e numero di bambini era 1 a 7 per i bambini più piccoli e 1 a 10 per i ragazzi più grandi gli animatori abbiamo fatto un corso di formazione per quanto riguarda le norme sul covid-19 invece noi maggiorenne abbiamo fatto proprio un corso di formazione che è durato 5 ore in cui ci hanno proprio spiegato tutti gli atteggiamenti da tenere in qualsiasi circostanza invece gli animatori abbiamo fatto noi questo corso tramite delle slide che ci hanno mandato sempre alla TS in cui gli abbiamo spiegato un po' le dinamiche ma comunque gli animatori fanno riferimento a noi maggiorenni che alla fine siamo noi che prendiamo le decisioni allora i bambini i primi giorni devo dire che è stato difficile perché comunque sono usciti da tre mesi in cui erano a casa e rivedere i loro amici è stata diciamo un'emozione infatti i primi giorni tenere le distanze non era tanto semplice ma poi con il passare del tempo hanno capito anche loro la situazione abbiamo messo in campo tutte le nostre possibilità tutti gli ambienti a nostra disposizione e con l'aiuto del centro parrocchiale siamo arrivati a fare tanto spero di aver fatto una buona cosa spero di essere riusciti ad aiutare non solo i ragazzi ma anche le famiglie perché comunque i ragazzi ne avevano bisogno e le famiglie altrettanto abbiamo cercato di dare una mano alle famiglie perché così le persone che hanno ricominciato a lavorare sapevano che avevano un posto sicuro dove mettere i figli e ai ragazzi nello stesso tempo abbiamo dato loro la possibilità di ritornare con i loro amici visto che la scuola è stata sospesa da un bel po' di tempo le attività che svolgiamo sono le più disparate allora facciamo molte attività ricreative vale a dire giochi in come teniamo le distanze poi insieme al comune abbiamo fatto diciamo una collaborazione che il comune ci presta la palestra, i parchi gambaresi perché così mandiamo dei gruppi anche là per divertirsi perché non ci potevano stare tutti all'interno dell'oratorio dopo il comune ci mette a disposizione anche degli istruttori di diversi sport che ci danno una mano nelle loro discipline e hanno trovato delle attività che si possono svolgere sempre mantenendo le distanze oi! 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 su, su, bambini! su, su! e, e, manca il gruppo! mette il gruppo! perché tutti quanti insieme siamo un bosco che si ride alla giusta distanza noi balliamo questa danza quando si gioca o si canza ricordiamoci di stare Alla giusta distanza, fuori e dentro da ogni stanza Questo è un gioco di pazienza, poi vedrai che passerà Gioca tutta la città, anche mamma e papà Gioca tutta la città, anche mamma e papà La 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 la